4 classi Custer, chiama che volete e rumparadumparadumparata kubububububarata rumparadumparadumparadumparra c'è questa cosa stop 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 so che ve la ricordate ma la facciamo sempre facciamo il dosado spadalestra con il partner e alla fine del dosado guardiamo alla nostra sinistra per andare da quella persona e ballare con lei uno swing quindi dosa do che swing a sinistra e dosa do con il partner swing a sinistra prima apertura del primo finger fronte a centro quindi ricordate sempre di swing l'apertura è la donna a sinistra e la donna a destra quindi chi fa la parte dell'uomo si deve ricordare di lasciare il braccio che è disteso non quello piegato quello disteso lascia la mano e dovrebbe aprirsi tutte le cose questa è la seconda figura quella che dà un po' senso alla tazza inizia tutti dentro e tutti fuori dopo abbiamo gli spostamenti il cast degli uomini spada destra e indietro per andare alla posizione a sinistra il cast delle donne spada sinistra e indietro per andare nella posizione alla loro destra facciamo solo una prova di questo movimento quindi ci lasciamo le mani partiranno prima gli uomini e tirano indietro la sua la destra andare alla loro sinistra uomini e rumpa la rumpa rampa le donne la stessa cosa ma dall'altra parte quindi l'altra spalla alla sinistra e l'altra direzione alla destra e rumpa la rumpa rampa come mi facevo notare le cose sono ravvicinate quindi non c'è un tempo per sono quattro tempi per gli uomini e quattro tempi per gli uomini quindi le facciamo attacate prima gli uomini e poi le donne comunque siete e e prima gli uomini e poi le donne va bene? la figura e tutti dentro tutti fuori uomini e donne tutti dentro tutti fuori insieme e prima facciamo gli uomini indietro gli uomini prima le donne dopo e ancora facciamo prima di tornare indietro d'accordo? l'ultima figura sono tornato indietro ho un nuovo partner uomini avevo la vostra destra e quello che voi fate o lei fate uno swing questo è il secondo swing della tazza l'apertura del secondo swing non è fronte al centro ma è di arrivarse il primo swing è quello che si fa con la pressione diagonale si apre con la città quello quando invece si viene per il secondo il secondo swing si apre in grananza va bene? sì non vi preoccupare che tanti dati non le potete fare vieni a capolete basta non le potete non le potete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti